Ehi, come stai? Giochiamo stasera. Siete pronti? Ho un nuovo laptop. Davvero è nuovo? Vado sempre a lavorare in un cybercaffè e questo computer stava lì tra gli oggetti smarriti da tre o quattro settimane. Hai rubato il computer? Non l'ho rubato. Oh sì, certo. Queste cose non si fanno. E ho trovato una cartella, era nascosta. Ti connette automaticamente a questa cosa. Ma questo è il Dark Web! Che cos'è il Dark Web? Una rete dove nessuno può rintraccerti. Si trovi droga, documenti falsi, anche sicari. Il Dark Web è pieno zippo di criminali. E questo computer ha dei video. Guardate qui. Secondo me dovresti smetterla. Oddio! Sembrava anche troppo reale. Credo che sia reale. Sono questi i loro traffici. Che cosa? Tutti quei video. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo farla adesso. Chi è quello? Che succede? Ragazzi, dov'è l'ex? Quello sembra l'edificio dove abita l'ex. No, no, no. Ragazzi, è l'ex, quella. Hanno ucciso l'ex. Chi? Chi compra i video? Chi sceglie le ragazze? Ma che cosa? Sono stati tutti a guardare. Oh mio Dio. Quella è mia mamma. No! Si hanno trovato l'ex. Non possono trovare anche noi. Hanno il controllo di tutto. Vi prego, lasciateci stare. Esci subito da lì. Ti sento? Sei ancora lì? Kelly, non ti vedo. Non ti vedo. Kelly!